alza il volume oggi all'insegna dell'umorismo infatti alzeremo questi due volumi il primo è del grande altan e si intitola trino abbiamo un creatore veramente folle e un mero esecutore pieno di fobie classiche di chi è subalterno un libro davvero divertente sono piccoli grandi racconti io quasi li chiamerei romanzi assolutamente da legge il secondo libro è di david sedaris cuor contento il cielo l'aiuto eccolo qui questo grande umorista ci descrive un mondo tutto particolare con una scrittura davvero divertente e ci racconta i nostri giorni i giorni in cui stiamo vivendo e ci racconta di noi stessi alla prossima alza il volume eccoli